Prima settimana di dicembre entra nel vivo il periodo degli acquisti natalizi, periodo frenetico per le attività, per i clienti che spesso non hanno tempo di dedicarsi ai doni natalizi. Ci sono attività come Heliograph con 40 anni di esperienza che vanno incontro a questa esigenza, 40 anni di esperienza nel settore delle stampe, delle fotografie, delle foto regalo e ora si va incontro alla fretta, al poco tempo dei clienti con una nuova app. Benissimo, esatto, proprio la fretta è quello che ti porta a non riuscire magari ad andare nei locali, nei negozi, dal tuo negoziante di fiducia. Allora abbiamo attivato, insieme all'aiuto di un nostro fornitore, abbiamo attivato un'app dove ognuno comodamente da casa o nel posto che preferisce, con le foto che ha sul telefono, può creare in autonomia il foto regalo. Quindi l'intramontabile maglietta, le palline per l'albero, la tazza piuttosto che un cuscino o dei quadri e generare direttamente l'ordine, il carrello e questo ordine arriva a noi. Noi personalmente che realizziamo, stampiamo e creiamo per voi il prodotto da regalare, insomma di immortalare la foto anche in un oggetto che può essere regalato e donato, soprattutto in questo periodo di festività. Hai citato una serie di opportunità, quali sono le più gettonate in questo periodo? Le più gettonate sicuramente sono la pallina di Natale da appendere all'albero, ce ne sono almeno due versioni, la tazza classica per le bevande calde o anche come portapenne, perché ognuno poi ne fa il suo utilizzo, o il cuscino o addirittura l'orsetto o il peluche morbido con la propria foto da abbracciare e coccolare, molto adatto a bambini o anche agli innamorati, perché sono queste poi spesso le categorie più gettonate. Dalle tazze alle magliette ai cuscini, ma poi dicembre anche il mese dei calendari, questo è proprio un must del periodo. Sì, ci sono anche qui diversi modelli di calendario, da quello singolo con tutto l'anno a quello con i 12 mesi, quindi ogni foto per ogni mese ci sono sempre, li realizziamo quasi fino all'ultimi giorni, quindi approfittate, siamo qui per voi. Grazie. 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 Grazie.